Siamo nel Backstitch Light Motive e parliamo con Marco Romano che ha fatto i capelli per questa sfilata. Lo stilista per questa sfilata ci ha chiesto comunque di creare un look molto semplice, di base minimale. Abbiamo creato una leggera destrutturazione per i capelli, non creare un look troppo pettinato, ma anzi un'ispirazione leggermente messy, quindi leggermente opaca. Con questa coda bassa e questa semplicità della riga centrale abbiamo creato un Light Motive che rispecchia un pochettino la linea che lo stilista voleva comunque esprimere con i suoi abiti. Che prodotti hai usato per questa acconciatura? Allora, per questa acconciatura abbiamo utilizzato una linea della nostra azienda, di Schwarzco Professional. Il nome di questa linea è Session Label. È una linea in realtà molto performante, studiata prettamente per i backstage e quindi per poter utilizzare questi prodotti in con delle performance che magari nei look di tutti i giorni si fa un po' più difficoltà a portare. Quindi abbiamo utilizzato una crema modellante per dare una texture ai capelli e renderli un pochino più vissuti. E successivamente una lacca da una tenuta elastica in tal modo da poter creare comunque un look un po' messy, un po' opaco. Perfetto, grazie mille Marco. Grazie a te. Grazie.